Dopo il successo del primo episodio, Denzel Washington torna al cinema per vestire i panni del letale vendicatore Robert McCall in The Equalizer 2 Senza Perdono. Per l'occasione abbiamo pensato di creare un servizio di vendetta innovativo, gestito dal protagonista del film. Il primo servizio di vendetta, portata di cornetta, che ti mette in contatto con Robert McCall e ti consente di vendicarti del torto subito. Sei stufo del collega che si prende meriti al posto tuo? I call center ti chiamano a qualsiasi ora? Il profilo Facebook del tuo ex è invaso dalle foto della sua nuova fiamma. Tramite il sito lavendettatiaspetta.it, l'utente può trovare tutte le modalità di contatto con il personaggio del film. Via telefono, dove risponde la voce di Francesco Pannofino, doppiatore ufficiale di Denzel Washington. Benvenuto nel nuovo servizio di vendetta, portata di cornetta. Il mio nome è Robert McCall, forse mi conosci come The Equalizer. Oppure via WhatsApp, per chattare direttamente con Robert McCall e ottenere una gif o un meme personalizzato in base alla vendetta richiesta. A vendetta compiuta, l'utente riceve la clip del trailer con un invito ad andare al cinema. Gli utenti si sono sbizzarriti con ogni tipo di richiesta. E la vendetta si è diffusa in tutta Italia. Ti aspetto al cinema, altrimenti la prossima vendetta potrebbe essere per te.